Punti di raccolta di beni di prima necessità da trasferire alle popolazioni di Amatrice, Accumole ed Arquata, inginocchiate dal terribile sisma dello scorso 24 agosto, aperti in diverse aree del Molise. Associazioni in moto per fornire il proprio supporto. Ma accanto al buon cuore e agli onorevoli propositi, c'è chi, cavalcando l'onda della disperazione, nonostante la drammaticità degli eventi, attua truffe e raggiri. Per evitare atti di sciacallaggio, soprattutto ai danni di anziani, da più parti si susseguono le raccomandazioni. A partire dalla protezione civile, che ricorda costantemente di non avere attivato alcuna raccolta spontanea, condizione che potrebbe verificarsi solo su indicazione del coordinamento generale. A quel punto la popolazione verrebbe immediatamente avvisata. Affidabili le associazioni locali, chiaramente se conosciute direttamente. Quanto alle donazioni economiche, il Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con le regioni colpite dal terremoto ed in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile e media, ha attivato il numero solidare 45500. Sarà possibile così donare 2 euro inviando un sms dal proprio telefonino o chiamando al medesimo numero da rete fissa. Il ricavato senza costi aggiuntivi sarà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma.